Siamo al traguardo di 18 annate di Torre Pedale, un vino che oggi rappresenta la nuova enologia pugliese. Cos'è per voi? Per noi è una certezza. 18 annate comunque rappresentano sempre un punto di partenza. Ogni anno è un motivo di studio, ogni anno è un anno in più di sperimentazione, su un vitigno che seppur vero è stata la storia della vitivinicultura pugliese, ma è solo negli ultimi anni che sta vivendo di luce propria un successo suo, una sua vera identità, una grande capacità di comunicazione, di ben rappresentare il territorio pugliese. Stiamo parlando di Nero di Troia, di cui voi siete stati i primi a reintrodurlo sul mercato. Assolutamente sì, a metà degli anni 80 abbiamo deciso di reinvestire, di ripianificare totalmente l'assetto viticolo della nostra azienda, annullando completamente i vitigni internazionali e puntando sul Nero di Troia. Un vitigno su cui non molti credevano sui successi, sui risultati, ma con la costanza, la capacità, le tecniche in campagna, le grandi innovazioni in cantina, i risultati oggi ci sono. E stiamo parlando oggi di una produzione di 600 mila bottiglie per voi, e con altri produttori a quanto arriviamo? Beh, oggi di Nero di Troia in commercio, credo di poter dire, ci sono 10 milioni di bottiglie in circolazione. 10 milioni di bottiglie, il che significa che può degnamente rappresentare quanto meno la produzione del nord della Puglia? Sicuramente sì, oggi Nero di Troia con il Primitivo e il Negramaro sono i vitigni rappresentativi della produzione regionale pugliese. E visto che voi li rappresentate tutti nella vostra cantina, quanto arrivate a produzione globale con questi tre vitigni autotoni? Complessivamente nelle varie tipologie produttive siamo intorno a 2 milioni di bottiglie. Su un totale? Su un totale di 6 milioni tra etichette private e altri marchi che Torrevento distribuisce in giro per il mondo. E Torrevento è tra l'altro una cantina che si caratterizza per avere un trattamento biologico da anni per essere inseriti nell'unico parco italiano agricolo. Cos'è questo impegno per voi? Un impegno importante, una scelta, una scelta partita 20 anni fa che ha di abitare un territorio, quello del parco, con tutte le difficoltà produttive che esso impone. Una scelta coraggiosa e bella. Oggi Torrevento è un'azienda certificata di impatto ambientale zero. Abbiamo impianti fotovoltagi sui tetti da ormai 8 anni. Non cediamo nulla all'atmosfera e cerchiamo di dialogare con il nostro territorio per crescere insieme al territorio e assolutamente senza conflittualità. Stare in questo territorio, cosa vuol dire rappresentarsi con un edificio simbolo come Castel del Monte? È una responsabilità enorme sapere di abitare un territorio che è stato abitato da uno degli uomini più importanti, che ha stupito, Stupur Mundi, ha stupito il mondo. Un uomo che ha fatto della sua vita, delle sue crociate, quindi un collegamento tra Oriente e Occidente, una grandissima responsabilità. Per noi abitare questo territorio vuol dire recepire questi messaggi chiari, queste regole forti e cercare insieme al territorio stesso di far ben figurare ciò che è stata la storia adesso collegata. Quindi se l'imperatore Federico II ha cambiato il mondo di allora, voi avete tentato di cambiare l'eologia pugliese? Noi stiamo più che cambiare, stiamo cercando di dar lustro e ragione a un'eologia pugliese che per tanti anni forse è stata succube di altre realtà regionali senza avere il giusto spazio e il giusto sfumo.